Ogni giorno ha il suo santo, in modo particolare quest'oggi è la festa del paradiso. Ritroviamo anche per questo motivo il nostro carissimo amico biblista, padre Ernesto della Corte. Ben trovato. Grazie, ben trovati a voi e buona festa a tutti, visto che siamo chiamati tutti alla santità, come ci ricorda il Papa Francesco nel suo ultimo documento, Caudete ed Exsultate. Quello è il punto di riferimento che dobbiamo avere tutti nella vita. Eh sì, e non lo dobbiamo dimenticare. I santi hanno percorso questa via, che è quella delle beatitudini. Allora, che cosa rende beati? Guarda, innanzitutto vorrei far capire alle nostre amiche e ai nostri amici che nel giorno della commemorazione dei defunti, che verrà domani, e nel giorno dei santi, stranamente abbiamo una stessa pagina. Certo, nel giorno della commemorazione dei morti noi abbiamo tre messe diverse, quindi letture diverse, però la messa centrale ha come Vangelo le beatitudini. Quindi vorrei far notare che nella festività di oggi e nella commemorazione dei morti che faremo domani abbiamo una stessa pagina. Come mai? È facile la risposta, perché le beatitudini sono una via per entrare nel regno. Vorrei proprio davvero oggi spiegare innanzitutto questo senso delle beatitudini, perché spesso l'abbiamo lette come un codice etico, addirittura come una pagina che vuole addirittura, come dire, cambiare i comandamenti oppure in un certo senso vuole sostituirli. In realtà non è così. Le beatitudini sono un codice di senso. Lo si vede anche dall'inizio, perché Gesù sale sul monte, si mette a sedere come fa un maestro e lo scenario è meraviglioso. C'è gente che è arrivata da ogni parte dell'orizzonte. Matteo cita il nord, cita l'est, cita il sud. Manca l'ovest perché lì c'è il mare. Non dimentichiamo che Gesù è il grande maestro e le beatitudini sono, in un certo senso, la pagina più importante del primo grande discorso che noi chiamiamo il discorso della montagna. Questi primi dodici versetti sono come la chiave di violino sul pentagramma. Proprio all'inizio, nei versetti 1-2, noi abbiamo sei verbi che definiscono proprio l'azione di Gesù. E tra questi sei verbi, tra cui anche quello sale, si mette a sedere, ma ce n'è uno che, tradotto letteralmente, indica proprio Gesù, aperta la bocca, cominciò a insegnare. È un'espressione davvero molto bella, interessantissima, aperta la bocca. Crisostomo, grande educatore, grande bibblista, diceva Gesù finora ha insegnato col silenzio. Ora apre la bocca e porta a tutti la bellezza di questa pagina delle beatitudini. L'espressione aprire la bocca, che è semitica, è molto solenne. Si può quasi pensare a una sorta di raccordo con quello che ha detto qualche momento prima, al capitolo 4, quando risponde al demonio. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, ora dalla bocca di Gesù, come da quella di Dio sono venuti i comandamenti, ora vengono delle parole che mostrano la via alla vita. Notate che le beatitudini possono essere, sono otto, si vede chiaramente, perché poi alla fine dell'ottava beatitudine c'è una sorta di allargamento, che si chiama embolismo, perché riprende l'ultima, che è l'ultima, che è quella anche passiva, beati i perseguitati, e dice, beati voi, quindi applica, beati voi quando mi insulteranno o vi perseguiteranno a causa mia, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Quindi sono le prime otto. Potremmo vedere le prime sette che sono attive, l'ultima è passiva, ma potremmo anche vederle prime quattro e le altre quattro, perché cominciano con i poveri in spirito, la prima tavola, e chiudono con quelli che hanno fame e sede della giustizia. La seconda tavola apre di nuovo con i misericordiosi e chiude con i perseguitati a causa della giustizia. Quindi è davvero uno schema molto bello, ma io vorrei far notare alle nostre amiche e ai nostri amici soprattutto una caratteristica. Che cosa ci offrono le beatitudini? Ci offrono la possibilità di fare della nostra vita un'opera d'arte, un'opera davvero umana. Potremmo dire che sono delle vie che ci umanizzano, sono il riflesso del Cristo, perché se andiamo a guardare le otto beatitudini, tutte e otto vengono soddisfatte dalla persona del Cristo, dalle sue parole, dalle sue azioni, dal suo stile di vita. Tra l'altro le beatitudini ci aprono a un futuro, a un compimento. È l'inizio di un cammino che avrà esattamente, vedi la festa di oggi, avrà il suo compimento in quella gloria del cielo dove si spera che saremo davvero beati insieme ai beati santi in mezzo ai santi. Notate anche una cosa molto interessante. Papa Benedetto definiva le beatitudini in un modo molto bello. diceva così che queste beatitudini sono un prosieguo di tutto quello che troviamo nell'Antico Testamento, quasi la trasposizione solo della croce e della resurrezione di Cristo. Sono quasi, come dire, il ritratto di Gesù Cristo. Benedetto dice addirittura una nascosta biografia di Gesù. Che bello questa espressione. leggere le beatitudini come una biografia nascosta, interiore di Gesù Cristo. Notate che per otto volte Matteo usa questa espressione macarioi, macarioi, beati, beati, che noi in genere intendiamo come felici, la felicità. Ma la felicità è un concetto non molto cristiano perché la mia felicità può essere l'infericità degli altri. Io posso cercare il potere per me stesso, il bene per me stesso, e diventi con gli altri. Noi cristiani in realtà parliamo di bene comune, di comunità che condivide, vedi, gli atti degli apostoli. Per cui Gesù qui ci insegna a lasciarci raggiungere dalla grazia. E questa è un po' la teologia di San Matteo. E a dare una risposta forte e chiara. Quindi le beatitudini sono un annuncio, una buona notizia. Qual è la buona novella? Che in Cristo tutto possiamo. Qui direbbe Paolo tutto posso in colui che mi ha mi sostiene e mi ha chiamato. Perché come diceva il profeta Isaia, il Signore ha mandato Gesù a predicare la novella ai poveri, agli afflitti, ai carcerati. E Gesù porta questa beatitudine a tutti quanti noi. Ma vorrei, prima di spiegarle brevemente un po' tutte, vorrei innanzitutto guardare un elemento che noi non guardiamo mai, l'elemento beato. certamente Gesù parlava l'aramaico e l'ebraico, quindi Gesù avrà parlato tenendo conto di quella parola beato che in ebraico si chiama asherè, questo termine che indica proprio il beato. Ma che vuol dire asherè? Asherè viene da una radice di un verbo ashar che significa andare avanti, avanzare. in un certo senso vedete i salmi dicono chi trova gioia nell'insegnamento del Signore medita la sua legge giorno e notte. Beato chi discende il povero, beato chi agisce con giustizia. Direi proprio interessante questo termine. C'è stato un ebreo di origine francese che è stato anche poi il vice sintaco di Gerusalemme André Curachì che ha fatto una traduzione di tutta la Bibbia in francese avendo anche l'ardire lui che era un ebreo di tradurre anche il Nuovo Testamento e lui in francese traduce proprio in marcia vai avanti quasi a dire che l'essere beato consiste non nell'essere felice nel senso umano c'è certamente una componente di gioia nelle beatitudini ma non è la felicità mondana è un andare avanti che è come un grido che viene fuori quando si hanno delle convinzioni sono le convinzioni che ci fanno attraversare la vita ecco perché questo termine Asheré che si trova proprio nel Salmo 1 il Salmo 1 inizia il primo libro dei Salmi da 1 a 41 perché sapete tutto il salterio è diviso in 5 grandi libri è il pentateuco della preghiera come esiste il pentateuco della Torah e comincia il Salmo con la lettera Alef Alef è la prima lettra dell'alfabeto ebraico indica il numero 1 indica Dio quindi quel Asheré iniziale ci ricorda che il senso della vita viene da Dio quindi il senso della vita 8 sentieri per arrivare a quella perfezione di cui dice Matteo siate perfetti come perfetti il Padre vostro che è l'invito non in una direzione solo morale ma è l'invito a seguire la volontà del Padre con un cuore indiviso che non sia doppio falso con un cuore puro e allora proveremo la gioia di appartenere a Cristo e di vivere una vita che è bella una vita che cerca il bene una vita che veramente ha senso e quando un cristiano e una cristiana vivono una vita di senso inevitabilmente diventano testimoni anche loro del Vangelo diventano Vangelo se vogliamo usare una metafora quella del viaggio è come prendere il treno e dimenticare di viaggiare se non viviamo le beatitudini sì è veramente una spinta in avanti perché offrono il senso di ogni cosa ci spingono le beatitudini a cercare il bene comune ad accompagnare le persone che hanno bisogno e a vivere anche quelle virtù umane di cui parlava il Coniglio che tanto sono importanti oggi Paolo VI quando chiuse l'abbiamo qualche settimana fa l'abbiamo contemplato sugli onori degli altari Paolo VI disse tutto il Concilio è una grande esperienza di fraternità di comunione perché ha avuto un grande obiettivo il Concilio studiare il mondo moderno mettere al centro l'uomo l'umanità ecco direi che la revisione del Concilio cioè Paolo VI è l'umanità la revisione cattolica è umanità perché dove c'è umanità lì c'è santità e allora oggi non dobbiamo pensare ai santi come persone distaccate da noi ma come persone che ci hanno preceduto in questo cammino di senso dietro di loro dobbiamo camminare anche noi farci santi per essere più uomini e più donne perché anche noi siamo attesi in paradiso grazie Padre Ernesto una bellissima giornata quella di oggi da vivere ovviamente proprio perché è festa per tutti auguri davvero a tutti quanti noi ricordiamoci che il cammino di santità è un cammino personale non avremo altri Padre Pio San Francesco o Paolo VI ognuno di noi è a sé Dio non ha fatto la catena di montaggio ogni persona è unica e irripetibile e la santità di ogni persona è unica e irripetibile anche questo è un grande dolo il Signore davvero è grande vi ringraziamo con tutto il cuore e noi ringraziamo te Padre Ernesto e ci vediamo fra qualche giorno perché poi ci ritroviamo nel giorno dedicato al Signore e certamente siamo nella Pasqua del Signore Shalom Shalom e buona festa auguri fatemi santi auguri a te a te